inquietanti dico io perché veramente inquietante questa regà si farà la seconda stagione del problema dei tre corpi è una delle domande che ci state facendo più spesso nei commenti a cui cercheremo di rispondere in questo video come al solito io vi invito a iscrivervi al nostro canale youtube cacchiazione ci trovate anche su facebook instagram tic toc cacchiazione film e serie tv dove tutti i giorni raccontiamo aneddoti curiosità sul meraviglioso mondo del cinema dei film e delle serie tv il problema dei tre corpi attualmente netflix ancora non ha rinnovato per una seconda stagione ma pare strano che non lo faccia nonostante un budget elevatissimo per produrla perché c'è stato un seguito altissimo e la serie è ancora saldamente in vita la top 10 delle serie più viste su netflix e poi perché c'è una storia da concludere ci sono dei libri un racconto dei romanzi da seguire e quindi è molto probabile che la serie verrà rinnovata per almeno un'altra stagione la storia racconta di questi scienziati che devono affrontare un imminente tra virgolette invasione aliena che avrà luogo fra 400 anni le prime recensioni sono stati contrastanti perché alcuni l'hanno amata altri non l'hanno capita altri l'hanno capita e non gli è piaciuta non bastano i due creatori di game of thrones anche perché può darsi che non mi sia piaciuta nemmeno quella serie tv ma ci sono degli aspetti che sono stati spiegati meglio nei tre libri di lucixin anche perché è una serie di fantascienza ma che punta molto sul discorso filosofico e su questo problema dei tre corpi cioè sulle orbite e sui movimenti sui modi i tre corpi che si influenzano gravitazionalmente fra loro allora per quanto riguarda le anticipazioni della seconda stagione c'è un motivo per cui netflix ancora non ha preso una decisione è costata parecchio la serie circa 20 milioni di euro e netflix aspetterà di vedere quale sarà la portata generale a distanza di qualche mese dall'uscita della prima stagione per capire se ci siano i presupposti e soprattutto i soldi per produrre una seconda stagione non è una garanzia che la serie sia in betta la top 10 delle serie più viste del momento anche perché anche in passato netflix nonostante i buoni ascolti se vogliamo sulla piattaforma streaming non è detto che rinnovi automaticamente perché un prodotto va bene ma servono dei mesi di studi di calcoli e soprattutto un budget molto elevato che porterà la serie ad avere almeno una seconda stagione se poi si vogliono seguire i libri il rischio è che ci debba essere anche una terza stagione fatto sta che i due creatori david binoff e di b vice che anche loro hanno fatto la sceneggiatura del trono di spade sono molto più avanti con le idee rispetto a quanto si pensi anche perché danno quasi per scontato che la serie venga rinnovata parola di indiwire che è uno dei portali più affidabili più autorevoli di hollywood la prima stagione ha seguito più o meno le peripezie raccontate nel primo libro della trilogia ha introdotto delle idee delle teorie che poi verranno anche spiegate meglio nei prossimi episodi questo significa pure che molti dei personaggi che abbiamo visto nella prima stagione sono funzionali al proseguo della storia gli unici che non torneranno saranno sicuramente will downing che è uno dei miei personaggi preferiti l'ho raccontato anche in un video precedente in cui ho fatto la spiegazione del finale della prima stagione del problema dei tre corpi perché è morto alla fine della prima della prima stagione e ha deciso di inviare il suo cervello ibernato nello spazio per poter comunicare con questa ipotetica civiltà aliena ostile la morte più scioccante però è stata quella di jack rooney il sam di game of thrones che ci ha letteralmente spiazzato e che arriva in un momento in cui non ce lo aspettavamo ma da parte dei creatori di game of thrones tutto è possibile e quindi non rivedremo l'attore john bradley nella seconda stagione del problema dei tre corti sicuramente libri alla mano la seconda stagione della serie si concentrerà su una delle soluzioni inquietanti dico io perché veramente inquietante questa regà del paradosso di fermi e che riguarda l'eventualità che nell'universo ci siano gli alieni certo ma è come se si nascondessero come un cacciatore in una foresta oscura e la teoria si intitola proprio la teoria della foresta oscura cioè che queste civiltà per paura di essere estinte di essere uccise di essere conquistate si nasconderebbero come un cacciatore col fucile nella foresta per trovare e cacciare la loro preda ma senza farsi beccare quindi è probabile che la seconda stagione tratterà un po più di questo argomento che è molto interessante dal punto di vista scientifico quindi è chiaro che la prima stagione con tutte le sue difficoltà è stato solo un antipasto un'introduzione a quello che vedremo nella seconda stagione se avete domande fatemele nei commenti io vi invito di nuovo a iscrivervi al nostro canale youtube attivate la campanellina mi raccomando per non perdervi tutti i prossimi video dedicati al problema dei tre corpi io vi saluto mi ringrazio per avermi seguito in questo nuovo video e vi do appuntamento alla prossima storia